Alla scoperta dei candidati al Consiglio regionale pugliese, sono con l'avvocato Dante Capriulo che è candidato con la lista Puglia Solidale Verde a sostegno del candidato presidente, il governatore uscente Michele Emiliano. Capriulo, perché lei si candida? Perché dopo anni passati in Consiglio comunale, varie esperienze a sostegno di altri candidati, mi sembrava opportuno in questa tornata elettorale provare anche ad essere io il candidato e a portare quella che è la mia esperienza da amministratore locale nei vari settori di cui me ne sono occupato a livello regionale. Perché l'esperienza da consigliere comunale mi ha insegnato che il livello regionale è fondamentale per il progresso e lo sviluppo della città e delle città, perché ovviamente la candidatura riguarda tutte e 29 i comuni della provincia di Taranto. Questo è l'obiettivo fondamentale, fare in modo che chi fa il legislatore regionale sia in grado poi di determinare leggi, di determinare assegnazioni di risorse utili all'attività delle province, all'attività dei comuni e quindi allo sviluppo del territorio. Questo è stato l'obiettivo fondamentale, portare quella che è la mia esperienza a livello di legislatore regionale in un ruolo che è già fondamentale, è stato fondamentale ma lo sarà sempre di più per le comunità. Penso per esempio all'utilizzo dei fondi comunitari che passano tutto attraverso la regione o penso al sistema sanitario o all'organizzazione della città. Quindi riusciti a fare bene il legislatore regionale nell'ottica di quelli che sono i miei valori di centro-sinistra e a sostegno del Presidente Emiliano.